. Dopo 15 anni Barbara D'Urso indossa lo stesso vestito, ma le foto a confronto rivelano che è foto, video. Barbara D'Urso indossa lo stesso abito di 15 anni fa. Il dubbio sui social. . Per la serie le operazioni revival fanno sempre un certo effetto, Barbara D'Urso si è presentata a Domenica Live con lo stesso vestito di 15 anni fa, quando presentava una delle prime edizioni del Grande Fratello. . Inutile dire che la sorpresa per gli afficionados di Carmelita è stata parecchia, molti sui social si sono detti sconvolti nel bene e nel male. . La conduttrice ha postato sul suo profilo Instagram un doppio scatto con lo stesso vestito a pesce e ha commentato Amo la tendenza vintage. . Il popolo del web si è diviso tra chi è rimasto allibito del fatto che Barbara D'Urso sia ancora in forma a 60 anni come lo era 45 e chi invece ha giudicato negativamente la scelta. . Saranno passati 15 anni ma che dire. . Ti sta da favola come allora. Forza Barbara. Ha commentato una fan della nota presentatrice, facendo seguito a tanti altri messaggi di apprezzamento. . D'altro canto qualcuno ha puntato il dito contro i ritocchini subiti negli anni, qualcun altro ha ipotizzato che i fianchi oggi sono più larghi di allora, mentre addirittura c'è chi si è detto pronto a scommettere che quello a domenica live non era lo stesso abito indossato al Grande Fratello 2002. . . È evidente che è lo stesso vestito ma di taglie diverse e Pretti Little gli ha tuonato un autente, mentre un'altra ha fatto notare, sembra diverso colore, e i fianchi di adesso sono più larghi e poi ha chiesto ma il vestito è stato rifatto?. . Noi rivolgiamo a voi il dubbio amletico, dopo 15 anni Barbara D'Urso indossa lo stesso vestito?. . 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